Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come La vita sentimentale dell'attrice ucraina è stata piuttosto turbolenta ma ora la 41enne sembra aver trovato un po' di serenità Anna Safroncic è uscita ufficialmente allo scoperto con il nuovo fidanzato L'attrice ucraina è sempre stata riservata ma ora ha deciso di parlare per la prima volta di questo amore che le ha regalato una nuova serenità e consapevolezza L'interprete di tante fiction Rai e Mediaset lo ha confessato in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia Ho un nuovo legame con un uomo napoletano che si chiama Marco L'ho conosciuto in Costa Rica e mio padre l'ha incontrato. Sono una persona riservata, ma in questo periodo drammatico, questi due uomini hanno reso la mia vita luminosa Il padre di Anna Sanfroch che è scappato dalla guerra.Di recente, infatti, Anna Safroncic è riuscita a riabbracciare il padre Evgen, che è scappato dalla guerra in Ucraina L'uomo, che è un professore universitario, ha lasciato Kiev pochi giorni dopo l'invasione russa, quando è stato aperto il primo corridoio umanitario Con lui la seconda moglie Olga, si è separato tanto tempo fa dalla madre della Safroncic Determinante è stato poi l'aiuto di un'amica preziosa di Anna Safroncic, la deputata di Forza Italia Matilde Siracusano Quest'ultimo ha un fratello in Polonia, è stato lui a mandare una persona per portare il padre di Anna in aeroporto a Varsavia in direzione Roma, dove vive l'attrice La vita privata e segreta di Anna Safroncic.Al momento Anna Safroncic non ha fornito ulteriori dettagli sul nuovo fidanzato Marco Sui social network dell'attrice dagli occhi di ghiaccio non ci sono scatti di coppia Sono presenti, al contrario, immagini della vacanza in Costa Rica, che risalgono allo scorso gennaio La relazione con il napoletano sembra dunque piuttosto recente ma già molto seria e importante, tanto che la Safroncic non ha avuto timore a presentare Marco al padre scappato dalla guerra in Ucraina Nel 2021 Anna aveva ufficializzato il ritorno di fiamma con l'ex Tommaso Cicchinelli La minestra riscaldata non ha però funzionato, i due erano stati insieme dal 2016 al 2018 e ci avevano poi riprovato, in vano, dopo il lockdown Anna Safroncic e il DJ si erano concessi pure una vacanza bollente in Grecia ma è servita a poco Prima di incontrare Marco l'ex star di 100 vetrina ha amato due attori celebri quali Giulio Berruti e Francesco Arca L'interprete si è però tenuta sempre alla larga da gossip e pettegolezzi Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri Ci vediamo nei prossimi video. Ciao